Negli anni 80 abbiamo avuto dei grandissimi eroi. Loro avrebbero voluto lui. O magari lui. Ma avevano un problema. Budget, spalla. Dici? Budget. Vengo io a farvi la spalla, gratis. Non è abbastanza vero! Un cattivo U-Fi e con questo potrebbe conquistare il mondo. Non solo tu puoi toglieri i castagli del fuoco. Ciò che è non è sempre ciò che sembra. Vendetta. Io non ammetto tali menti. Non ho niente in contatto. Non cedere amore! Robe fatte cacao presenta il migliore.